Ah, sì, ok. Ciao. Ciao, siamo, come vi abbiamo promesso, come ciò che vi aveva promesso, siamo a Campo dei Fiori, un'importante piazza di Roma, un importante mercato di Roma, dove c'è anche la famosa statua di Giordano Cuno, un frate filosofo che è condannato proprio a Roma in questa piazza per le sue idee considerate eretiche dalla chiesa cattolica, è un bel posto caratteristico, molto famoso a Roma, posso dire che lì c'è un forno che fa la pizza molto buona, pizza Sì? Non so, venite qui, insomma è una piazza famosa a Roma, Campo dei Fiori, è un posto imperdibile, insomma, una tappa da visitare, da vedere, un posto da visitare. Inoltre, qui potete comprare tanti souvenirs, per esempio, non posso vedere belli, ma credimi. Sì, ci sono molti posti, potete comprare magliette, non so, altre torse dall'Italia, tanti piccoli souvenir. Sì, sì, tanti piccoli, ma non è troppo caro e ci sono tanti ristoranti, ma è vero che la maggiore parte dei ristoranti qui sono turistici. Sì, devo informare che sono turistici e quindi magari sono un po' cari. E adesso sono molto molto fortunato perché lei mi ha portato a un ristorante... Mi porterà? Mi porterà, grazie. E adesso ho fame, allora devo dire ciao, ma grazie mille per guardare i video, sì, e spero che ti... non posso dire piace perché è un congettivo, non è vero? Sì, spero che questo video vi piaccia. Ok, che lei ha detto? Ciao! 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 Ciao!